Ciao, sono Matteo, ho 25 anni e sono stufo di stare a casa a non fare niente. Non faccio male a nessuno se per una volta vado a fare aperitivo con qualche amico. E poi sono giovane e la malattia non mi fa niente. Ciao amici! Ciao Matteo! Ciao ragazzi! È stata proprio una bella serata! Matteo, sono una nonna! Ti ho portato il pranzo perché so che non sei capace di fare niente! Grazie, nonna! Oh, mi è venuto un po' di mal di testa! Fembre, tosse seca, polmonite e sindrome respiratoria acuta grave! Oh no, ti porto subito in ospedale! Mi spiace, signor Matteo, proprio ora sono finiti tutti i posti in terapia intensiva. Ma come mai? C'è una pandemia. Figliolo! Nonna! Voglio che tu sappia che sei uno stupido! Nonna! State a casa e non saccheggiate supermercati, porca miseria, che se mi serve la carta igienica non la trovo. Io spacco tutto, faccio bordello. Siamo tutti qui riuniti per ricordare la nonna di Matteo.